Fusione per incorporazione è la sintesi di quanto siglato a Pescara tra Abruzzo sviluppo e finanziaria regionale, entrambe partecipate dallo stesso ente, la regione Abruzzo, e ora divenute Fira S.p.A. L'operazione, che vede Abruzzo sviluppo come incorporanda e Fira come incorporante, prevede statuto e capitale invariati. Accertata la sussistenza dei requisiti necessari, il notaio ha dato il nulla osta, cui è seguita la firma dei due presidenti, Stefano Cianciotta per Abruzzo sviluppo e Giacomo D'Ignazio per Fira. Oggi abbiamo firmato un atto importante, credo, per il sistema economico regionale perché si parlava da oltre un decennio di questa fusione che, secondo le indicazioni dei legislatori, avrebbe dovuto creare uno strumento più snello e agile a servizio del sistema economico. In poco più di un anno il sistema regionale, sia sotto il profilo istituzionale, che ovviamente con le due società e i due consigli di amministrazione hanno redatto un progetto credibile e siamo arrivati alla firma, credo anche con una sorta di record nazionale, visto un po' i tempi molto lunghi delle altre regioni. Tra qualche mese comincerà la nuova programmazione comunitaria. Sul 21-27 l'Abruzzo è riuscito a ottenere fondi maggiori rispetto al precedente settenato e quindi questa fase segna certamente un nuovo inizio per il sistema dello sviluppo regionale. Dal primo gennaio la regione avrà un braccio armato più forte e competente, si occuperà dallo sviluppo economico, al turismo, all'agricoltura, abbracciare tutte le competenze del tessuto regionale e quindi saranno molto più competenti e competitivi a favore dei professionisti e delle imprese abruzzesi. La nuova fiera sarà un punto di riferimento per l'imprenditoria abruzzese e tutti i cittadini come professionisti avranno un unico punto di riferimento per quello che sono le possibilità e le attività che la regione Abruzzo porterà avanti ma quelle che saranno anche le opportunità che tutto lo stato italiano, le risorse che arriveranno dalla comunità europea potranno essere gestite e veicolate dalla nuova fiera. Sicuramente avremo un soggetto che potrà mettersi a disposizione del tessuto imprenditoriale ed economico abruzzese soprattutto in questo periodo in cui ci accingiamo a varare una programmazione 21-27 che per l'Abruzzo sono un pacchetto economico importante, parliamo di oltre un miliardo di euro, quindi dall'anno prossimo sicuramente usciremo con i primi bandi a supporto delle imprese, dell'innovazione tecnologica digitale delle imprese abruzzese e quindi avere uno strumento rapido, un braccio operativo rapido non soggetto a lungaggini che si hanno nei departamenti di regione Abruzzo sicuramente aiuterà tutto il tessuto economico abruzzese.